Chi ha tempo non aspetti tempo Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video dedicato al riciclo ma soprattutto dedicato ai più piccoli Con un progetto di riciclo insegneremo ai nostri piccolini a leggere l'orologio Avete capito bene? E sapete come? Usando un bicchiere Non ci credete? E allora prima di spostarci sul piano da lavoro cliccate su iscriviti Piggiate sulla campanella per non perdervi video futuri Seguitemi, venitemi a cercare su Instagram e su Facebook Arte per Te Pennello Bianco su Fondo Rosso E venitemi a cercare anche sui miei altri due canali Ombretta, il mio canale di Lifestyle E 2Q1K, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele Adesso basta chiacchierare E andiamo ad utilizzare questo bicchiere per insegnare ai nostri piccolini a leggere l'orologio Chissà come succederà questa magia Ed ecco l'occorrente per il nostro orologio didattico per insegnare ai bimbi come fare un orologio con un bicchiere di carta Io ce l'ho qui, bello e dorato Ma potete usare un bicchiere di carta qualunque anche con i personaggi preferiti dai vostri figlietti Quindi un bicchiere di carta, l'importante è che il fondo sia bianco naturalmente Un fermacampione, io l'ho preso dorato del colore del bicchiere Voi accordatelo con il vostro bicchiere Un bottoncino a strap o un qualunque pezzettino di strap Dello scotch, un righello, un pennarello nel mio caso dorato Voi accordatelo col colore del bicchiere Una penna nera e una matita Un compasso ci agevolerà il lavoro Cominciamo subito Poniamo il compasso al centro Facciamo apertura sul bordo del bicchiere Quindi stringiamo leggermente e tracciamo a un 2 mm di distanza tutta la circonferenza Così Adesso pratichiamo un taglio Che vada dal bordo del bicchiere verso il fondo Quindi eliminiamo tutto il bordo del bicchiere che crea ingombro Adesso tagliamo un'altra striscia parallela alla precedente a un 2 cm di distanza Così Questo sarà il cinturino dell'orologio Facciamo la stessa cosa dal lato opposto del bicchiere In modo che i due cinturini siano uno di fronte all'altro Ed eliminiamo la parte in disavanzo Quindi facciamo una piega con l'unghia Pressiamo ben bene E solleviamo il cartoncino che fungerà da cinturino Voilà! Ecco pronto il nostro orologio in forma grossolana Ora arrotondiamo le punte del cinturino Questo farà sì che sfregando di meno si consumino meno velocemente Adesso sistemiamo il quadrante Tracciamo a croce i punti cardinali Quindi le 12, le 6, le 3 e le 9 E inseriamo le ore in mezzo Creando un trattino su quella parte di quadrante Che abbiamo ricavato dalla circonferenza del bicchiere Più la circonferenza tracciata da noi Adesso segniamo le ore Faremo una pallina e il numero relativo Fatte le ore con un altro colore Segniamo i minuti Io sto facendo le ore con un pallino grosso dorato E al centro un puntino verde I minuti invece li sto facendo tutti verdi Sto facendo così perché Anche dove c'è l'ora va contato come minuti Quindi metto anche lì il pallino verde Ma il pallino dorato invece segnerà l'ora Adesso faccio le lancette E richiamo lo schema dei colori Anche su di esse Faccio la lancetta dei minuti più lunga E la lancetta delle ore più corta Attenzione Quando tagliate il cartoncino per le lancette Tagliatelo larghetto In modo che il fermacampione Possa passare all'interno di esso Fatta quella dei minuti Faccio un po' più corta quella delle ore Adesso ripasso la punta della lancetta dei minuti Con il colore verde Con cui ho fatto anche i minuti sul quadrante E ripasso la punta delle ore Con il colore dorato Con cui ho fatto la segnalazione delle ore sul quadrante Quindi foro le lancette Lì dove dovrà passare il fermacampione Adesso apro maggiormente il foro al centro del quadrante Con un bulino Lo faccio della dimensione del fermacampione Anche sulle lancette Con pazienza senza strappare Per fare in modo che le lancette non si strappino E che il quadrante resista di più Vi suggerisco di foderarli con dello scotch Sia le lancette sul retro Che il quadrante Sempre sul retro Fungerà un po' da salvabuchi Diciamo così In modo tale che la sollecitazione dei bimbi Quando sposteranno le lancette Non vada ad intaccare il cartoncino Ok Foderiamo tutte le nostre lancette di scotch Apriamo ben bene i fori Montiamo la lancetta delle ore su quella dei minuti Quindi montiamo insieme il tutto sul quadrante Avvalendoci del fermacampione E adesso inseriamo le lancette sul quadrante E apriamo il fermacampione Per fare in modo che il fermacampione non dia fastidio al polso del bambino Ricavo un dischetto di carta dalla rimanenza di una delle sponde dei bicchieri Ritaglio e appiccico sul retro In modo da renderlo liscio e confortevole Adesso è il momento di chiudere il nostro cinturino Con i bottoncini a strap Ne metto uno da una parte E uno dall'altra Io questi bottoncini li compro Occasionalmente alla Lidl Ma li trovate anche nelle mercerie O come vi ho detto prima Potete mettere un comunissimo pezzo di strap Anche rettangolare o quadrato Vediamo come sta il mio orologio Wow! Non è una favola? E guardate come si muovono bene le lancette Per segnare le ore Potete interrogare i vostri figli E chiedere che ore sono Oppure metti l'orologio sulle ore 3 E lui con facilità potrà imparare A leggere l'orologio Tenendo al polso un oggetto fashionissimo Se il video vi è piaciuto Pollice in su e condividete E chi ha tempo non aspetti tempo Fatelo adesso! Visto che bello il nostro orologio Tutto d'oro Ma chi ve lo regala un orologio d'oro A poco prezzo se non arte per te Ma non è un escamotage bellissimo Per far imparare a leggere I nostri piccolini gli orari E poi basterà girare le lancette Per cambiare gli orari E interrogarli in tutti i momenti Su che ora sia Vi faccio vedere quanto è bello e funzionale Anche al polso Voilà! È già attaccato Enzo appena l'ha visto È regredito di 7 anni E lo voleva mettere al polso Io ho detto No, devo ancora fare le foto per il canale Non lo toccare Comunque è comodissimo Abbastanza resistente Se volete renderlo super super resistente Foderate ogni parte con dello scotch In modo che l'anima in plastica Lo mantenga ancora più resistente Ma vi posso assicurare che già così Fungerà al suo scopo Cioè in poco tempo insegnerete ai più piccolini A leggere l'orologio in maniera creativa È un oggettino divertente Simpatico Creativo Che vi aiuterà Vi aiuterà sia che siate genitori Ma sia anche che siate maestri Insomma È un gioco divertente Che farà dei vostri bimbini Degli elegantoni Con dei bellissimi orlogi d'oro D'argento O dei loro personaggi preferiti Al polso Bene Ditemi se questo progettino vi è piaciuto E fatemelo capire con un pollice in su E con i vostri commenti qua sotto Mi raccomando Condividete il video E noi ci vediamo sempre qui Per un prossimo video creativo Da ombretta ed arte Per te è tutto Alla prossima volta Ciao Ciao